Persi. In altre circostanze, camminare per Roma insieme ad Annabeth sarebbe stato fantastico. Passeggiando mano nella mano per le strade e i vicoli della città, dovettero scansare auto e scooter spericolati, farsi largo tra fiumane di turisti e guadare oceani di piccioni. La giornata si fece rapidamente più calda. Una volta che si furono allontanati dallo smog delle auto, l'aria profumava di pane fresco e fiori appena colti. Puntarono in direzione del Colosseo perché era un punto di riferimento facilmente riconoscibile, ma arrivarci fu più difficile di quanto Persi avesse immaginato. Per quanto Roma gli fosse sembrata grande e caotica dall'alto, lo era molto di più da terra. Diverse volte si persero in vicoli ciechi e scoprirono per caso splendide fontane ed enormi monumenti. Annabeth faceva commenti sull'architettura, ma Persi teneva gli occhi aperti alla ricerca di altre cose. Prima notò uno spirito violaccio scintillante, un lare, che li fissava dalla finestra di un condominio. Poi vide una donna in vesti bianche, forse una ninfa o una dea, che si infilava tra le colonne diroccate di un parco pubblico, con un pericoloso coltello in mano. Non subirono nessun attacco, però Persi ebbe la sensazione che fossero osservati da qualcuno non esattamente ben disposto nei loro confronti. Alla fine raggiunsero il Colosseo, dove una dozzina di uomini abbigliati da gladiatori si azzuffava con la polizia. Spade di plastica contro manganelli. Persi non capì di preciso quale fosse il motivo della contesa, ma insieme ad Annabeth decise di proseguire. A volte i mortali erano ancora più strani dei mostri. Si diressero a Ovest, fermandosi di tanto in tanto per chiedere indicazioni per il Tevere. Persi non ci aveva pensato, furbo eh? Ma la gente in Italia parlava italiano, e lui no. Poi però scoprì che non era un grosso problema, riuscivano comunque a trovare qualcuno che parlasse inglese. Un'altra scoperta. Gli italiani usavano gli euro, e Persi non ne aveva. Se ne pentì non appena trovò un negozio che vendeva bibite. Era già quasi mezzogiorno, e cominciava a fare molto caldo. Persi avrebbe voluto avere una trireme piena di Diet Coke. Annabeth risolse il problema. Prugò nello zaino, tirò fuori il portatile di Dedalo e digitò alcuni comandi. Una carta di plastica spuntò da una fessura su un lato del computer. La sventolò con aria triunfante. Carta di credito internazionale! Per le emergenze! Persi la guardò allibito. Come hai fatto a... No, lascia stare. Non voglio saperlo. Continua a essere fantastica. Le bibite furono un sollievo, ma quando arrivarono al Tevere erano accaldati e stanchi. La riva era affiancheggiata da un'argine di pietra. Un caotico assortimento di magazzini, appartamenti, negozi e caffè gremiva il lungo fiume. Il Tevere era ampio, lento e color caramello. Alcuni alti cipressi si affacciavano sulle rive. Il ponte più vicino sembrava piuttosto recente ed era costruito con travi di ferro, ma proprio lì accanto si ergeva una fila di archi di pietra che si fermava a metà sul fiume. Rovine che potevano risalire all'epoca di Cesare. Eccolo! Annabeth indicò il vecchio ponte in pietra. Lo riconosco dalla mappa. Ma adesso noi cosa facciamo? Persi fu contento che avesse detto «noi» non voleva ancora lasciarla da sola. In realtà non sapeva neppure se ne sarebbe stato capace quando fosse arrivato il momento. Gli tornarono in mente le parole di Gea. «Cadrai da solo?» Fissò il fiume, domandandosi come potevano mettersi in contatto con il dio tiberino. Non aveva affatto voglia di tuffarsi. Il Tevere non sembrava molto più pulito dell'Istriever, dove aveva avuto troppi incontri con spiriti del fiume Brontoloni. Indicò un bar pizzeria che aveva dei tavolini affacciati sulla riva. «È quasi ora di pranzo. Che ne dici se proviamo a utilizzare di nuovo la tua carta di credito?» Pur essendo mezzogiorno, il locale era vuoto. I ragazzi scelsero un tavolo accanto al fiume e un cameriere si precipitò da loro. Sembrò un po' sorpreso di vederli, soprattutto quando dissero che volevano pranzare. «Americani?» chiese con un sorriso rassegnato. «Sì», rispose Annabeth. «E io vorrei tanto una pizza», disse Percy. Sembrava che il cameriere tentasse di ingoiare una moneta da un euro. «Certo, signore. E mi lasci indovinare? Una Coca-Cola? Con ghiaccio?» «Perfetto», commentò Percy. Non capiva perché quel tipo lo guardasse con aria acida. Non aveva mica chiesto una Coca-Cola blu. Annabeth ordinò un panino e dell'acqua minerale. Quando il cameriere se n'è fondato, sorrisi a Percy. «Mi sa che gli italiani mangiano molto più tardi e non mettono il ghiaccio nelle bevande e fanno la pizza solo per i turisti. Lui scrollò le spalle. È il piatto italiano più buono e loro non lo mangiano?» «Non lo direi davanti al cameriere». Si tenevano le mani sopra il tavolo. Percy era contento di poter guardare Annabeth sotto la luce del sole. I capelli le diventavano sempre così luminosi e caldi. I suoi occhi assunsero il colore del cielo e dei ciottoli, diventando a volte celesti, a volte marroni. Si domandò se dovesse raccontarle del sogno su Gea che distruggeva il campo mezzosangue. Decise di no. Non le servivano di certo altre preoccupazioni. Le bastava quello che stava per affrontare. Ma non poté fare a meno di chiedersi cosa sarebbe successo se non avessero messo in fuga i pirati di Crisaure. Loro due sarebbero stati incatenati e condotti dai servi di Gea. Il loro sangue sarebbe stato versato su antiche pietre. Percy immaginò che sarebbero stati trasportati in Grecia per un orribile sacrificio. Ma insieme avevano affrontato tante situazioni brutte. Avrebbero potuto escocitare un piano di fuga e renderla una giornata indimenticabile. E Annabeth non avrebbe dovuto affrontare quell'impresa romana da sola. Non importa quando cadrai, aveva detto Gea. Percy si rendeva conto di quanto fosse assurdo, ma quasi gli dispiaceva che non fossero stati catturati in mare. Almeno sarebbero rimasti insieme. Non dovresti vergognarti, disse Annabeth. Stai pensando a Crisaure, vero? Non si possono risolvere tutti i problemi con la spada. Ci hai salvato tu, alla fine. A mal in cuore, Percy sorrise. Ma come fai? Sai sempre quello che penso. Ti conosco. E ti piaccio lo stesso? Avrebbe voluto chiederle Percy, ma si trattenne. Non puoi sostenere il peso di tutta la missione da solo, riprese Annabeth. È impossibile. È per questo che siamo in sette. E dovrei lasciarmi cercare l'Atena Parthenos, per conto mio. Mi sei mancata, confessò Percy. Per mesi e mesi. Ci hanno strappato un pezzo enorme della nostra vita. Se ti perdessi di nuovo... Arrivò il pranzo. Il cameriere sembrava molto più calmo. Una volta accettato il fatto che erano solo degli americani, aveva deciso di perdonarli e di trattarli con educazione. È un bel panorama, disse annuendo in direzione del fiume. Buon appetito. Quando se ne fu andato, i ragazzi mangiarono in silenzio. La pizza era un insipido quadrato di pasta con poca mozzarella. Forse è per questo che i romani non la mangiano, pensò Percy. Poveri romani. Devi fidarti di me, disse Annabeth. Sembrava quasi che parlasse al panino perché non guardava Percy negli occhi. Devi credere che tornerò. Lui inghiottì un altro boccone. Io credo in te. Non è questo il problema. Ma tornerai da dove? Il rumore di uno scooter li interruppe. Percy guardò verso il lungotevere ed ebbe una reazione a scoppio ritardato. Si trattava di un vecchio modello di Vespa celeste. La guidava un tizio in abito grigio. Dietro di lui sedeva una donna più giovane, con un fularo in testa e le mani posate intorno alla vita del guidatore. Si infilarono tra i tavoli del caffè e lentamente si fermarono accanto ai due semidei. «Salve!» esordì l'uomo. Aveva una voce profonda, quasi roca, come un attore del cinema. I capelli corti, impomatati di gelatina e portati all'indietro, lasciavano scoperto il viso scavato. Era bello come poteva esserlo un attore degli anni cinquanta. Anche i suoi vestiti erano vecchio stile. Quando scese dalla Vespa, il punto vita dei pantaloni era molto più alto del normale, ma in qualche modo riusciva a essere maschile ed elegante e a non fare la figura dello scemo. Percy non riusciva a capire che età avesse, forse era sulla trentina, anche se i modi sembravano un po' da nonno. La donna scese con eleganza. «Abbiamo trascorso una mattinata piacevolissima», disse con un filo di fiato. Sembrava avere una ventina d'anni e indossava anche lei abiti vecchio stile. La lunga gonna a fiori e la camicetta bianca erano completate da una cintura alta di cuoio che le faceva il vitino più sottile che Percy avesse mai visto. Quando si tolse il fular, i capelli neri ondulati e corti tornarono subito in perfetta forma. Aveva occhi scuri vivaci e un sorriso brillante. Percy aveva conosciuto Naya di molto meno aggraziate di quella donna. Ad Annabeth cadde il panino di mano. «Oh santi nomi! Come... come...» Era così allibita che Percy immaginò che li conoscesse. «Voi due avete un'area familiare», decise. Pensò che magari li aveva visti in televisione. Sembravano appena usciti da un vecchio telefilm, ma non era possibile. Non erano per niente invecchiati. Indicò l'uomo e tirò a indovinare. «Sei il protagonista di Mad Men?» «Percy!» Annabeth era inorridita. «E c'è, non guardo spesso la televisione». «È Gregory Peck!» Annabeth aveva gli occhi sgranati e continuava a rimanere a bocca aperta. E... «Oh dèi! Audrey Hepburn!» «Ma Vacanze Romane è stato girato negli anni cinquanta! Come...» «Oh mia cara!» La donna piroettò come uno spirito dell'aria e si sedette al loro tavolo. «Temo che tu mi abbia preso per qualcun altro. Mi chiamo Rea Silvia. Sono stata la madre di Romolo e Remo migliaia di anni fa. Ma sei così gentile a pensare che sia nata negli anni cinquanta. E lui è mio marito.» «Tiberino!» disse Gregory Peck allungando una mano verso Percy. «Dio del Tevere!» Percy gli strinse la mano e sentì odore di dopo barba. Si disse che era comprensibile che avesse voluto mascherare con l'acqua di colonia l'odore del fiume. «Salve! Voi due avete sempre l'aria di stelle del cinema?» «Dici sul serio?» Tiberino corrucò la fronte. «Non saprei, in effetti. Lo spostamento della civiltà occidentale viaggia nei due sensi, sapete. Roma ha influenzato il mondo, ma anche il mondo influenza Roma. Pare che negli ultimi tempi il modello da seguire siano gli Stati Uniti. Mi sa che ho perso un po' il conto nel corso dei secoli. «Siete venuti per aiutarci? Le mie naïadi mi hanno detto che eravate qui.» Tiberino puntò gli occhi scuri su Annabeth. «Fai la mappa, mia cara? E la lettera di presentazione?» Annabeth gli porse la lettera e il disco di bronzo. Fissava il dio del fiume così intensamente che Percy ebbe una fita di gelosia. «Avete aiutato altri figli di Atena per questa impresa?» «Oh, mia cara.» Rea Silvia mise una mano sulla spalla di Annabeth. «Tiberino è sempre così disponibile. Ha salvato i miei figli, Romolo e Remo, e li ha portati dalla dea lupa. Poi, quando il vecchio renuma ha tentato di uccidermi, Tiberino ha avuto pietà di me e mi ha preso in moglie. Da allora governo il regno del fiume al suo fianco. È un uomo semplicemente fantastico.» «Grazie, cara», commentò il dio con un sorriso. «E per rispondere alla tua domanda, Annabeth Chase, ho aiutato molti tuoi fratelli. Almeno a intraprendere il viaggio senza correre rischi. È un peccato che poi siano tutti morti in modo penoso. Bene, i tuoi documenti sembrano in ordine. Dovremmo darci una mossa. Il marchio di Atena ci attende.» Percy strinse la mano di Annabeth, probabilmente un po' troppo forte. «Tiberino, permettimi di accompagnarla, ancora un po'.» Rea Silvia rise dolcemente. «Ma non puoi, sciocco. Devi tornare alla nave e radunare gli altri semidei. Combatti contro i giganti. Il percorso comparirà sul pugnale della tua amica Piper. Annabeth ha un cammino diverso. Deve procedere per conto suo.» «Esatto», disse Tiberino. «Annabeth deve affrontare la guardiana del tempio da sola. È l'unico modo. E tu, Percy Jackson, hai meno tempo di quanto credi per salvare il tuo amico nella giara. Devi sbrigarti. A Percy sembrò di avere nello stomaco un blocco di cemento invece della pizza. Ma non ti preoccupare. Annabeth gli strinse la mano. Devo farlo.» Percy voleva obiettare, ma l'espressione di Annabeth lo bloccò. Era terrorizzata e tuttavia faceva del proprio meglio per nasconderlo. Se lui avesse tentato di discutere, le avrebbe solo reso più difficile la situazione. O, peggio ancora, avrebbe potuto convincerla a non partire. E poi, lei avrebbe dovuto vivere con la consapevolezza di essersi sottratta alla responsabilità più grande della propria vita. Ammesso che si fossero salvati, con Roma che stava per essere rasa al suolo e Gea che stava per destarsi e distruggere il mondo. La statua di Atena era la chiave per sconfiggere i giganti. Percy non sapeva né come né perché, ma Annabeth era l'unica in grado di trovarla. «Hai ragione», riuscì a dirle a malincuori. «Prudenza, mi raccomando.» Rea Silvia ridacchiò, come se fosse un commento ridicolo. Prudenza. Non sarà facile, ma è necessario. «Vieni, Annabeth, mia cara. Ti mostreremo dove comincia il tuo cammino. Poi ti lasceremo sola.» La figlia di Atena baciò Percy. Esitò, come se si domandasse cos'altro dire. Poi si mise lo zaino in spalla e salì sulla vespa. Per Percy fu un momento terribile. Avrebbe preferito combattere contro qualsiasi mostro al mondo. Avrebbe preferito sfidare Crisaure un'altra volta. Ma si costrinse a rimanere seduto e guardare Annabeth che spariva per le strade di Roma in Vespa, insieme a Gregory Peck e Audrey Hepburn.